Nella notte scorsa si è verificato un nuovo sciame sismico nella zona dei campi Flegrei. Durante questo periodo i sismografi hanno rilevato un totale di 13 scosse di terremoto, di cui ben 12 si sono susseguiti in un breve lasso di tempo. La scossa più intensa è stata di magnitudo 2.2 verificatasi alle 6 del mattino con una profondità stimata di 2.7 km. Le altre scosse sono state localizzate nella stessa area e hanno mostrato una magnitudo variabile situata tra 0.2 e 2.0 con profondità tra 0.3 km e 2.4 km. Le 12 scosse che compongono questo sciame sismico si sono verificate nel breve arco di 7 minuti. Subito dopo la scossa di magnitudo 2.2 delle 6 del mattino sono seguite 4 scosse di minore intensità, 3 delle quali di magnitudo 1.0 e una di magnitudo 1.1. Inoltre è stata registrata una quinta scossa di magnitudo 2.2 con una profondità di 2.1 km alle 6.02 del mattino. La prima scossa è stata rilevata alle 5.58 con una magnitudo di 0.8 e una profondità di 2.4 km, mentre l'ultima si è verificata alle 6.05 con una magnitudo di 1.0 e una profondità di 1.8 km. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o beni causati da queste scosse sesmiche.